Musica Ciao a tutti ragazzi io sono Celophysis E questo oggi siamo qui, questo è un nuovo video Di Minecraft Celopec3, che cosa stavo dicendo Non lo so, questo oggi siamo qui In un nuovo episodio, come vedete fuori dal video Mi sono portato un po' avanti Ho ingrandito la coltivazione L'ho migliorata, adesso ho messo vari tipi di semi Qua c'è il grano normale, qua il barley Che è tipo il grano Ma è qualcosa di diverso Qua invece abbiamo le carote Che crescono, ancora non è finita Qua ci voglio mettere altre piante, logicamente di tipi diversi E qui abbiamo delle apple E delle cherry Che andremo quest'oggi a usare Visto che ci siamo, per fare qualcosa Di più utile Allora, per prima cosa come vedete Stavo sistemando il pavimento e volevo farlo tutto così Ecco Però lo finisco dopo Che vedo magari Ecco tutto Anche il piano di sotto Comunque Volevo fare per prima cosa il juicer Se lo posso fare Juicer Eccolo qui Guarda facilissimo Sembra che ci voglia un pezzo di pietra Uno Uno Aspetta, allora Questo lo lasciamo così Questo avete dovuto trasformare in quello di prima Cioè Questo qui che stavo usando Ok, allora No, aspetta Mi serve di più Bene Molto Allora, per prima cosa facciamo questa cosa qui Avevo preso il plate E un pezzo di pietra Sopra abbiamo il juicer Che però Andiamo ad utilizzare dopo Questa mi serve Aspetta, questo è un saucer pad Non so cosa sia Vediamo un po' Volevo controllare Se abbiamo Non c'è Peccato Niente Comunque Il juicer Che cosa serve Posso sbloccare un nuovo slot Facciamolo Allora comunque Il juicer serve a trasformare qualunque tipo di frutto Almeno la maggior parte In succo Succo E quindi Passiamo bene Ci da molto più cibo Come vedete Molto pratico Qua sono pieno di cibo E spazzatura Che dovrò depositare Ma adesso non ce l'ho avuto voglia Allora quest'oggi Voglio fare delle nuove stanze No Ma dai Perfetto Ho completato Che la stanza di sotto Però questo fa schifo No Vabbè Si vede più che in qui Però è lo stesso Dai Non stiamo a vedere L'assino della capra Ma adesso buttiamo qui dentro Niente Veste tutti questi cibi qua Inutili Anche queste robe marce E Facciamo Per prima cosa Ecco La diamond Non la voglio Buttarla via La diamond wand Che è come quella lì Però è di diamante Perché ho scoperto Che questa qui Ecco Non vai all'azolfo Uffa È completamente inutile Praticamente Perché colpisce Soltanto una certa zona In orizzontale E quindi è inutile Questa qui come vedete Fa così Quell'altra invece Faccia soltanto una linea sotto Era inutile O adesso Possiamo usare questa Però qui non lo fa Perché non ho i blocchi Bene Dove cavolo sto andando Io quest'oggi Voglio fare Le stanze Della tecnologia E della magia Che useremo Nel prossimo video Ma cominciamo Che facciamo Che facciamo però Adesso Allora vedete un po' Direi di fare così Questa qui è Un due tre Di qua Quattro Anzi Quattro di qua Un due tre Quattro Un due tre Quattro Cinque di qua Strano Vabbè lo facciamo Vabbè lo facciamo Quattro per quattro Ah no aspetta C'è anche questo Quindi cinque per cinque In realtà Un due tre Sembra così Allora Quattro Cinque Poi altri quattro Di qua Un due tre Quattro Ecco così Doveva andare Giusto? Sì Va bene così Adesso basta allungarlo Anche di qui Di cinque credo No di dieci Non lo so Sto facendo casini Ci vediamo dopo Ah giusto Se non me lo dimentico Voglio sapere Se vi interessa Vedermi mentre costruisco O no Perché se no Taglio le parti Come faccio adesso Io adesso le taglio Non vorrei sapere Cosa interessa a voi Mitril Oddio ma non ho parole Ma non è pos... Io il mitril L'ho cercato per anni Letteramente Cinque o sei episodi Che caspita è successo Il gatto Cioè Pucca Ma guardate Tutte le cose Devono succedere Sempre durante il video Allora Il mitil l'ho cercato Per tantissimo tempo E stava qui accanto A casa mia Ma che delusione Proprio Che cosa No Vorrei evitarlo Quello Allora La stanza è qua Di finita Ci vanno messe Le torce qui Qui E Tolta questo Perfetto La sala della tecnologia È completa Ragazzi Adesso ci vanno messe Le cose tecnologiche Queste cose qui Direi che per il momento Lasciamo qui Il mitril Lo lasciamo qui Perché quello Perché voglio fare cose più Ardue Più complicate Ovvero la fornace Modulare E nel frattempo Passa anche un'ambulanza Perché no Che ci manca La fornace modulare Adesso vediamo Che cosa serve Questi cose Possiamo buttarli dentro Questo vi serve La fornace modulare È una fornace Epica Allora Che prima cosa Dobbiamo fare Un quadrato 3x3 Di pietra Di pietra Di qualunque altro Minerale Materiale Più il materiale prezioso Più sarà potente Possiamo dire Una fornace Potenziata Eccola qui Ta da Modular furnace Per il momento È poco efficace Dobbiamo trovare Una soluzione Per esempio Facciamo una prova Prendiamo Il ferro Eccolo qui Facciamo un bel blocco Di ferro E Magari Con del legno Facciamo anche Una crassa in table Ecco Da portarmi di là Ecco qui Prendiamo Questo bel blocco Di ferro Lo mettiamo Al posto Della pietra Vediamo Gli piace E adesso Sembra essere Più veloce Comunque È meno efficace Beh Possiamo aggiungerci I blocchi E modificare Quando avremo diamanti Possiamo fare Tutti gli diamanti Verrà potentissima E Bene Tutto qui Semplicemente Possiamo fare anche Il modular Pulve No No aspetta Allora Modular Allora Per prima cosa Dobbiamo fare Il solid fuel bank Facilissimo Lo facciamo anche qui Forse Che Ne li dobbiamo fare Due in realtà Che cosa facendo Con il magnesio Allora Facciamo due ceste Ecco qui Poi Che cosa Va bene Allora Possiamo farne uno Perché di carbone Non ne è abbastanza Sul serio Mi manca il carbone Vabbè Per ora ne facciamo uno Vediamo se ne ho altro Si che ne ho altro Vai Di sicuro L'ho messo al posto Sbagliato Guarda Dov'è la cesta Oh incredibile È giusto Davvero Wow Possiamo buttare via Il magnesio Adesso Allora Come si fa Il pulverizer Con il pistone No Speriamo di poterlo fare Allora Si faceva così Così Redstone Si si che si può fare Eccolo qua Pistone Vai Tutto attorno Il ferro No Non era così La selce I selce ne ho tantissimo Meno male Selce Ecco il pulverario Allora Per prima cosa Mettiamo qui sotto La banca Non funziona Ah Pianti Così No Vai Adesso ci possiamo mettere il carbone La metà La prendiamo Per mettere sul Crusher Invece Il Crusher Andrebbe fatto Più in alto Vabbè Lo stesso Per il momento Li mettiamo separati Poi in futuro Vedremo come collegarli Ecco qui Ci metteremo Un blocco di ferro Anche qui No Un blocco di ferro Mettiamo qui E sotto Ci mettiamo Questo Ferro bloc Possiamo farne anche due Vediamo un po' Allora Ecco Cosa ci dice La stessa cosa dell'altro E' meno efficiente Io non so che vuol dire Efficienza Vabbè L'altro blocco Lo metto qui Ecco E' più veloce Però Vediamo un po' No Aspetta No E' più efficiente E' meno veloce Boh Non so io Allora Qui ci mettiamo questo Adesso Possiamo provarla Prendiamo Il mitri Che per fortuna Non si è polverizzato Lo mettiamo qui E si polverizza Giusto Adesso Facciamo un hopper Hopper Ecco Beh facilissimo Però dobbiamo prendere Un blocco di ferro Da qui Ecco Vai Allora Facciamo l'hopper E ci serve Una cesta Ecco qui Tecnologia Hopper Ecco qui E vorrei collegare Le due fornace Questo non ce l'ho pensato Possiamo fare Le cose di questo tipo No E qui No aspetta Cosa ho fatto Ho fatto casino Togliti Ah però le cose C'erano entrate Allora aspetta No allora E poi abbiamo Mettaci l'hopper Ci mettiamo l'hopper Tasto destro Non va L'hopper Non vi piace Quindi Mettiamo così Ok così Si è attivata Allora No Non funziona Come voglio io Questo può essere Un problema Allora Aspetta eh Sto sperimentando Io Voglio fare Una chest Dalla quale Le cose Escano Allora Chest La mettiamo qui Bene Sotto ci mettiamo Questo Qui ci facciamo Così Voilà E le cose Adesso dovrebbero andare qui Però Si è bugato un po' Questo va qui Questo va qui Questo va qui Ecco le cose Adesso dovrebbero uscire qui Nel prossimo episodio Sistemeremo meglio Il meccanismo E Vediamo un po' Se ho del legno Non ho legno Vabbè per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.